Sei pronta ad affrontare la Pennywise Challenge, Fede? Certo, io sono sempre pronta, Steph, ma che me lo chiedi a fare? Oggi dimostreremo chi è il pagliaccio migliore della città, Fede, quindi concentrati perché sarà una prova... Se perdo, ingoi 50 palloncini, Steph. 50 palloncini, ma non la farò mai. E ragazzi, come va? Io sono Feri, Niki. E sono Steph, che soggi come GTA V. E oggi siamo qui con un nuovissimo episodio di GTA, in cui faremo una nuova sfida per il nostro amico Pennywise. Esattamente, allora abbiamo pensato, ok, abbiamo Pennywise. Cosa fa Pennywise nel film? Rapisce i bambini. Dato che noi su GTA V non possiamo rapire bambini, abbiamo pensato... E sarebbe anche terribile da rifare, Steph. E sarebbe anche terribile da rifare, aggiungo effettivamente. Abbiamo pensato a una sfida che va il più vicino possibile a quello che fa Pennywise nel film. Ovvero, cercare di ammazzare più abitanti di GTA V senza farsi beccare. Ed è difficilissimo. Non dobbiamo avere stelle di pulizia e non dobbiamo neanche farci vedere da altri abitanti. Quindi se tu vedi un abitante che inizia ad urlare perché sei accorto che tu... E certo! ...ne hai ammazzato un altro, automaticamente quella kill non conta. Non è che perdi, ma quella kill non la puoi conteggiare. Bisogna essere molto bravi, un po' Hitman, capito? Mezzo nascosti. Non è roba troppo per te, Fer, eh. Hitman, hit il film. Basta, era una battaglia che tu non hai neanche capito e l'hai capita due minuti dopo. Ci sono arrivato dopo. E beh, anche tu mi fai queste similitudini, Steph. Ok, in ogni caso avremo cinque minuti a testa. Esatto. Ok, e io stavo pensando che la scelta della location è la cosa più importante. Perché se tu adesso provi a ammazzare lì nascosto delle persone in città, secondo me ti vedono otto volte su dieci. Anche secondo me bisogna andare in qualche quartiere molto cupo, molto nascosto. Quindi vuoi che parto io o vuoi che parti tu? Perché io mi sono persanto una collocation e tu l'hai pensata? No, la dovevi pensare tu per tutti e due. Ovviamente no, una parte della challenge. Allora vai tu, così poi magari te la copio se mi piace. Non puoi copiarla, però prendi ispirazione. Vai, vai. Io voglio andare nella zona delle villette. Guarda quanta bella gente è per Steph. Allora, io inizio a scegliermi l'arma, facciamo una mezza da baseball. Io ti osservo, hai avviato il timer Steph. 3, 2, 1. Via, vai. Partito. 5 minuti per me. Allora, devo stare attento che non passino le macchine, perché è l'unica cosa che mi può vedere. Ok. Ok. Un'andata. Guarda, queste macchine chiaramente non mi hanno visto, sei d'accordo? No, stanno facendo finta di nulla, probabilmente ha preso un'insolazione la signorina, capito? Esatto, quindi un'andata anche quella lì che è lì che sta aspettando di essere ammazzata non mi ha minimamente visto, quindi una kill valida per Steph. Buongiorno signorina, guardi, lì c'è una macchia. Sì, 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 controlli, controlli. Ok. Si è aperto anche il garage, Steph. Si è aperto il garage. Sì, vabbè. Stella di pulizia per me, quindi questa kill non la posso tenere valida. Ma dai, non è giusto però. Non ti ha visto nessuno. Mi sono nascosta dentro il garage. Sperando, perché ovviamente non vale chiamare l'ester, ci tengo a perci darlo. Ci puoi entrare, ci puoi entrare. Ci si stia a questa cosa, ma è ridicola, Steph, è al limite del ridicolo. Io spero di... Io ci fai nascosto nel garage dopo che hai ucciso pure la padrona di casa. Infatti non sta funzionando per seminare la pulizia, perché non stanno arrivando pulizia ottima. Ok, adesso li sto seminando. No, adesso funziona, per forza che funziona. Ok, sta funzionando. Non mi stanno vedendo, e te l'ho detto che il garage... Aspetta, non hanno frenato? Sono scesi dall'auto. E stanno risalendo, stanno facendo sali e scendi. Ok, ok. Aspetta, arrivano verso di te. Non aprirti il garage, ti prego. Arrivano. No, se ne vanno. Uno è entrato dentro casa e uno è ricorso nell'auto dopo che ti hanno aperto. Aspetta. No, mi hanno visto. Mi hanno visto. Dovevi nasconderti dall'altra anta? Non ti avrebbero visto. Ok, vabbè, vabbè. C'è qualcuno da queste parti? Scusate, ho soltanto due kill. Anzi, una kill. Ok, fare, qua c'è una signorina. Qua c'è una signorina. Ti raggiungo, ti raggiungo, vai. Ok, tranquilla, tranquilla, tranquilla. Sta passando la macchina. Ok, ok, sta usando il telefono la signorina. Ci facciamo una foto per Instagram. Ecco, fatta. Non ho visto la scena ma la sto immaginando, Steph. È stata molto bella. La sto proprio immaginando. Ok, sono due perché nessuno mi ha visto. Non stava passando nessun'auto e non ho polizia. Adesso ne ho una addirittura in un vialetto, Fereco. Cioè, qua non mi vedrà mai e poi mai nessuno. Ok, ti sto raggiungendo arrivo. Ecco, ti, ecco, ti, ecco, ti. Buongiorno, sì, salve. C'è posta per lei una mazza. Sì, per kill, per Steph. Ok, sono a tre minuti e tre kill. Sto facendo una kill al minuto, Fere. Mi ha ridato la stella di polizia, ma credo perché sto correndo in giro con la mazza, col sangue, eccetera, eccetera. Perché sul momento non me l'hanno data, quindi facciamo che la polizia non vale. Sei d'accordo? Perché non funziona. Cioè, ero nascosto dentro un'aiola. Ho ucciso un tipo, nessuno l'aveva visto. No, facciamo che nel limite nessuno ti deve vedere. Non ti devono vedere auto, non ti devono vedere altri passeggeri e va bene così. Ok, ok, allora conta anche l'altra che ho fatto, sono a quattro kill, giusto? Sì, va bene, dai. Ok, perfetto. E qui... Aspetta, sta passando un'auto. Fere, com'è la giornata oggi? È bello, vero? Sì, sì, sì. Soprattutto vestiti così si sta bene, certo. Sì, 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 sì. Poi... Capito, siamo ad Halloween, quindi ci sta a vestirsi così andando in giro nelle case, vero? Sono a cinque. Eh, ma lei ha proprio bisogno di una mano. Ecco, ok, ho fatto. È stata una bella mano. Sono a safer e continuo a correre. Mentre sto riuscendo anche a non farmi prendere dalla polizia. Ma notato, sei molto abile. Sì, sei molto abile. Seminata la polizia. Cioè, io non vorrei dire, ma sono un Pennywise fantastico. Cioè, non per vantarmi. Sì, 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 sì. Però non sto più trovando nessuno. Ho 40 secondi per farmi la settima ed ultima kill. Dimmi. Sono le 19. Quindi teoricamente tu potrai fare la sfida al buio. E al buio c'è meno gente in giro. Tecnicamente sì. Tecnicamente sì. Eh sì, eh sì. Comunque niente. Sono appena finiti i cinque minuti. Quindi non sono riuscito a fare la settima kill. Quindi cinque minuti tondi, sei kill senza farmi vedere. E direi che tocca a te fare. Non so se andrà bene, Steph. Però la mia scelta è vicino alla discarica di Los Santos. Cioè, non proprio dentro. Perché secondo me non c'è nessuno. Controlliamo. Chi è che sta qui dentro, Steph? No, non c'è nessuno. Non ci dovrebbe essere nessuno. Però magari qua vicino non sono vie troppo trafficate. Infatti, vedi, c'è poco traffico. Anche poche persone, sto notando. Questa non è una cosa positiva. Non so come andrà, Steph. Sei sicura di questa scelta? Perché ancora ti posso concedere di cambiarla. Però dopo che inizi è finita. Cioè, se inizi, inizi. Allora, ho visto due persone contate. Finito. Però guarda che belli qua, isolati. Eh, vedi? Volevo fare tutte queste zone qua. Eh, sì, 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 sì. Però... Oh, secondo me non è male. Che dici? C'è poca gente. Pochi, vero? Mmh. Vai, Steph, ci provo. Ci provo. Ci provo lo stesso che se... Occhio a controllare che lì non ci sia gente. Che se ti fai già beccare... Ok, ok, ok. Però è sempre pieno di persone. Allora, io qua non vedo nessuno. Vado. Nenche io. Vado. Vado, non me ne frega nulla. Vado. Un andato. Ok, nessuno ha urlato. Sei a uno, Fere. Vai, continua. Ok, ok. Stai andando bene. Spero di trovarne altri qui che passeggiano da soli. Perché è molto affollato, eh. Guarda che non sembra, ma è molto affollato. Guarda che secondo me non è male come zona. Anche perché poi sei a casa tua, quindi capito? Non è casa mia, dai. Beh, sì, ci stai bene qua. Allora, qui ci sono troppe persone. Però secondo me se vai nella parte in fondo qualcuno da solo c'è lì, eh. Magari anche qui, qui dietro, che si sta guardando il panorama. No. Però non mi sembra, vero? No. Andiamo in fondo, andiamo in fondo. Ok. Ne vedo uno camminare. Beh, me li devi trovare tu adesso. Ok, vado. Aspetta. Ti faccio una. Stai attenta, controlla che non ci sia qualcun altro. No, non c'è nessuno. Dai, non c'è nessuno. È proprio solo... Togliti, togliti, togliti. Guarda com'è spaventato. Guardalo, 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 guardalo. Guardalo, è veloce. Ok, fatto, fatto. Due. Ok. Ok, ok, due. Allora, io non ti do più una mano. Perché a me interessava che non facessi una figuraccia. Adesso mi interessa vincere, quindi non ti do una mano. Fermi, ma dove sei finita? Qui dietro. Sto facendo il giro dello stabile, Steph, per vedere se trovo qualcuno. Ah, ok. Ah, ecco. Ah, ciao. Questo è solo, eh. Beh, lo so. C'è nessuno. Io vado. Se non è che conto io come spettatore. Tre. Se vuoi, magari, guarda, se poi per il pareggio posso contare anche te, sarebbe perfetto. No, per... Allora, siamo a tre. Tre, 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 tre. Vediamo qui sotto. Qui non mi sembra che ci sia nessuno. Ma anche qui sotto c'è l'acqua. Ci sono i pesci lì sotto. No, vedi che qui sotto c'è questo passaggio. Ok. Magari qualcuno che passeggia in solitaria si trova. Eh, lo... Sì, sì, salve, salve. C'è un Pennywise pazzo che sta ammazzando tutti. Potete far venire una pattuglia di polizia? Grazie. Non ci provare, Steph. Ho chiamato la polizia. Allora, la polizia mi sta anche... Oh, ma qui c'è qualcun altro da solo. C'è qualcuno in giro. Vai. Che cosa, Steph? Che è arrivata la pattuglia. Ma dov'è? Aspetta. Nel ponte. Facciamo finta di nulla. Aspettiamo un attimino. Comunque l'ho ucciso, hai visto? Ok. Sei a quattro? Eh, non c'era nessuno. Questo valeva, sì. Qual era? Scusami, non l'ho visto. Questo qua. Vieni, guarda. Infatti non si è spaventato nessuno. Però questo qua è l'ultimo che ho ucciso. Questo qua. Ok. Ok, perfetto, perfetto, perfetto. Allora, continuiamo ad andare in giro. Anche se io ti ho un po' complicato la vita. Ma devo dire che hai avuto una fortuna incredibile. Questo posto è meraviglioso. Ti ho dato un consiglio troppo forte. Se siamo a due minuti e trenta, sei a quattro. Potresti surclassarmi. Sì, sì. Scusate. Eh, no. È un prank questo. E c'è pure un poliziotto che corre, Fere. Ma ce l'ha con te? Oh, cavolo, dov'è? Dietro di te. No, io non ho più le stelline. Guardalo. Facciamo fuori il poliziotto. Ciao. Ciao, ciao, poliziotto. Ah, che fa? Non lo so. Se va lì dietro e non mi vede nessuno, io lo faccio fuori, eh. Vale doppio, Fere. Vale doppio. Se nessuno ti vede e lo fai fuori, vale doppio. Ok, aspetta, aspetta. Lo seguiamo? Aspetta, è fermo. C'è qualcuno in giro? Uno, però abbastanza lontano. Non credo che ti veda. Però c'è ancora la volante. Aspetta. Se lo mollano qui, io vado. Però sto perdendo un sacco di tempo. Ma è troppo bella questa cosa. Non posso non farla, Fere. Però vale doppio, arrivi già, sei con questo. Fere, l'altro, il collega si è buggato. Perché praticamente questo qui dovrebbe essere quello che grida. Allora, facciamo così. Se qualcuno urla e qualcuno si spaventa, non vale. Ok. Io ci provo. Vai. È cattivissimo, Collascio. Ok, mi hai ridato le stelline, giustamente. Sì, però nessuno ha urlato. Esatto, vale, 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 vale. Sei a sei, Fere. Tre minuti e trenta. Qualcuno salirà qui sopra. Allora, lì sopra. E va bene, un attimino che ho la... Come cerca ovunque, si sta divertendo, Fere. Ho tre stelline e un elicottero sopra la testa, non vorrei dire, però... Chiama l'Ester, cioè qua è troppo, non è colpa tua. Il gioco ti fa trovare polizia a priori, quindi ti concedo un Lester. Per 15 secondi, eh. Altrimenti è pareggio. Qui sono due. Qui sono due, quindi non puoi. Questo è troppo vicino agli altri due, credo. No, non ce la faccio, non ce la faccio. È troppo vicino questo. E ho perso un sacco di tempo con la polizia. Alla fine il poliziotto si valeva doppio, ma l'ho pagato caro, eh. L'ho pagato davvero caro. Però ho apprezzato, è finita, è finita, Fere. Non ho resistito, scusa, era lì da solo, col collega buggato. Cosa facevi? Non te lo prendi, scusami, eh. Io l'ho apprezzato totalmente, secondo me è stata davvero una cosa bellissima. Comunque l'abbiamo pareggiata alla fine. Dai, secondo me è abbastanza onesta come cosa. Dovremmo fare uno spareggio, che dici? Sì, 3, 2, 1, via. No, non intendevo questo, Steph. Non voglio fare uno spareggio. Oh, schivata! Oh, schivata ancora! E vieni, sono troppo forte. Aia! No, mi sono flippato. Fere, stai calma. Fere. Adesso te lo meriti, è iniziato tu e io finisco, perché mi stai facendo arrabbiare, ok? No, dovrei inventare un altro episodio per fare uno spareggio. Un altro episodio. Vabbè, allora, se questo spareggio conta, io ho vinto perché ti ho battuto e umiliato, quindi diciamo che conta. Ok. E poi dai, il poliziotto mi ha ammazzato. Altrimenti lo spareggio è tipo andare nella metro. Adesso lo vuoi pensare? E ammazzare le persone nella metro, prima che prendano il treno. Ci sta. Carino. È una bella idea. Per ragazzi, lasciateci un bel like. Adesso è la prima volta che avete detto il nostro video, potete considerarli da iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao e alla prossima! Ciao ciao! Ciao ciao!